buonasera a tutti ragazzi vi saluto come sempre sono mor e vi sto parlando da giurbel ghiarim la mia scita natale come sempre saluto a tutta la comunità senegalese che vive in italia ma faccio anche un applauso a tutti i follower che si stanno seguendo sul youtube e facebook oggi ragazzi vi teremo aggiornati di una bella notizia per quanto riguarda il decreto sostegno perché alla fine possiamo dire che è arrivato la svolta allora fino ora tutti i lavoratori stagionali che avevano diritto per il bonus 2400 euro che fino ora cioè stanno aspettando il link per fare la domanda alla fine è arrivato quel link quindi oggi diciamo verso le 18 orario italia l'imps ha pubblicato il link per tutti i richiedenti che hanno diritto per il buono sostegno 2400 euro avete capito che tutti a 20 diritti sono stati pagati già dall'otto marzo ora tocca a tutti i richiedenti che hanno tutti i requisiti ma che devono fare una domanda quelli che non hanno mai fatto la domanda quelli che ora hanno tutti i requisiti e devono fare la domanda e quelli di prima che avevano fatto la domanda ma erano visti tutti domande respinti quindi tutte quelle persone oggi hanno l'opportunità sul sito ims di presentare una nuova domanda per avere il bonus 2400 euro del decretto sostegno quindi l'imps ha pubblicato il link è disponibile sul portale ims e tutti i richiedenti che hanno tutti i requisiti possono già da domani anche oggi fare la domanda e scade pure anche fino il 31 di maggio 2021 parleremo anche di alcuni provvedimenti sempre in merito al prossimo decreto sostegno bis e per finire parleremo anche della novità che c'è tra il bonus 2400 euro e il reddito di emergenza e il reddito di cittadinanza ma anche ci sono anche dei cambiamenti per quanto riguarda la naspi 2021 oggi quindi cercheremo capire con voi tutti quei novità in cemme salam alaikum bocchi ma lindi nudi l'enziar rubac barman la senbo q talib e morta la sarda più giurbel ma lindi santu bubac abadino al secolo si ciao ci sono un po' ecco ovviamente c'è la comunità sengala e che la comunità sengala è che la comunità sengala sia che sia la comunità sengala sia la comunità sengala che sia il giocchi che sia il tuo sopito o che l'uomo si può essere disoccupati per loro riassero e che hanno sbagliato per loro Abbiamo avuto un decreto di aprile e il decreto di sostegno al 23 marzo Abbiamo avuto un decreto di aprile come 12, dopo 200 ferole Abbiamo avuto una discusa di la offertazione di aprile Quindi tra il 2019 e il 2021 e il 2020 ci sono 30 giorni di lavoro come stagionale Quindi ci sono i contributi a questo contratto stagionale Quindi non c'è nessuno di NASPI E anche il 23 marzo del decreto di Danu Non c'è nessuno di NASPI Non c'è nessuno di contratto Quindi non c'è nessuno di NASPI Il contratto intermitente Autonomi privi di partita IVA Il lavoratore del turismo a tempo determinato Il lavoratore dello spettacolo Il collaboratore sportivo Il settore del turismo e dei stabilimenti termali Il settore diverso del turismo E dei stabilimenti termali Quindi possiamo presentare la demanda di 2400 euro Perché? Perché se presenta la demanda automatica Il decreto di sostegno Il venduto in avril Il venduto un bonus extrazionale Per la demanda automatica Quindi non c'è nessuno Non c'è nessuno Non c'è nessuno Covid-1970 Non, 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 non. Quindi non c'è un 600€, se non si è una demanda che ci sono disponibili per la categoria extrazione delle miele. Quindi non c'è un certo processo di sviluppo la misa, non c'è un certo processo di risposta. Quindi, come vi racconto, questa è come prima 14 ore, amegli un link che dice che è stato messo il bologna il bologna di un decretto sostenibile 2021. quindi il nostro link è disponibile al sito MC il 23 marzo la catégorie dell'agire che si sta a lavorare il nostro intervisto se si trova il link al sito MC se si trova il requisiti se si trova il patronato se si trova il contatto se si trova il requisiti se si trova il requisiti se si trova il exigenza Se metta tutte le requisite che si chiede su un'AP, che si chiede su una mia finanza a la price tagliere da IMS, a la ACHO din證ere su un test di gamine. Quindi ci sono i nostri spiegati. Quindi questo è quello che vuole. Il fatto che tutti i nostri spiegati devono andare a cliccare la catégorie di caire e se giornale. Non c'è un'automatique bonus 2400 euro. Quindi il link è disponibile nel sito IMC. Qui si è 31 ma? Quindi non c'è un'unico che si può andare a cliccare. Quindi ci sono un'automatique. Il nostro corso gratuito è stato fatto per la domanda. Quindi abbiamo visto che la domanda è stata fatta dal 1er avril, che si dovrebbe essere stato fatto il 30 maio. Ma la domanda è stata fatta dal 30 avril, ma non si dovrebbe essere stato fatto il 31 maio. come si sono arrivati al circulare una nuvita che si sono arrivati al circulare è una cosa che si chiama compatibilità e incompatibilità ma cosa che si chiama è che si chiama con il bonus e che si chiama con il bonus quindi in un buro circulare lo che si chiama con il bonus extrazionale 2400 euro nessuno che si chiama con il reddito di cittadinanza si chiama con il ciumile questa intram suicide e condividisco se si chiama 500 euro mi'serà 600 euro miwierà 400 euro se si chiama 100 euro e non ha mancatCarCarCarCarCarCarCarCarCarCar沒關係 se che dona Co ma com chased whatnot se rannea 400 euro se che�� camera pot 來ります quindi Quindi se prendzzare di 2.000 Anche se prenderà 2.400 per mai non Qui au-delà di noi Si c ouverte la R Normally e dopo la stilla Noi più problemi Quindi condividiamo Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non Grazie.